Il problema del gioco d'azzardo è un problema che riguarda anche i nostri territori. Abbiamo verificato che nel Comune di Procida nell'anno concluso, nel 2018, sono stati giocati 10 milioni di euro. È un budget poi di tutti e 33 i comuni che arriva addirittura a più di un miliardo di euro. Quindi sono cifre sbalorditive. Dobbiamo fare qualcosa. Ebbene ha fatto l'ASL a dare il là per poter coordinare i comuni e fare un regolamento. Si parla di legge regionale, dopo di che ci saranno i regolamenti dei comuni ed è buona cosa se insieme lo elaboriamo e facciamo dei provvedimenti che siano uguali per tutti i comuni. Questo è un argomento che si sta manifestando in tutta la sua drammaticità sulla nostra isola. I dati sono davvero allarmanti. Si parla di circa 90 milioni di euro che sono stati giocati nell'anno 2018. Per quanto riguarda il mio comune, il comune che rappresento, quello di Barano Dischia, parliamo di circa 5 milioni e mezzo di giocate nell'anno 2018. Quindi è assolutamente ormai inevitabile intervenire, intervenire con un regolamento che sia unico, che venga approvato da tutti i comuni isolani per evitare che i giocatori d'azzardo possano tranquillamente spostarsi da un comune dove appunto il regolamento è vigente e in un altro comune dove il regolamento non esiste e continuare a giocare liberamente. Direttore, l'Asl Napoli 2 Nord ha promosso un convegno invitando tutti i sindaci del territorio di competenza per combattere il gioco d'azzardo. Una piaga purtroppo diffusa. Bellissima iniziativa, una iniziativa che doveva essere fatta. Il gioco d'azzardo poi è stato riconosciuto come patologia ed inserita nei livelli essenziali di assistenza riconoscendone la gravità stessa della patologia che ahimè in questo caso non interessa solo il paziente ma coinvolge tutta la sfera familiare e va anche oltre. Rispetto a questo purtroppo le Asla hanno bisogno di sinergie, hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno che gli enti collaborano tra di loro perché oltre agli aspetti sanitari ci sono senz'altro degli aspetti sociali che incidono fortemente. L'integrazione, il costituire una rete può essere che ci aiuti a dare una risposta più qualificabile e più quantificabile anche in termini di assistenza.